Sei freddolosa e vuoi che l'ambiente ovunque tu vada sia sempre caldo? Tieni basso riscaldamento per risparmiare sulla bolletta e sei costretto a stare in casa sempre sotto la coperta? Abbiamo la soluzione per te! Fast Power Heater. La metti in qualsiasi presa di corrente e in 10 minuti il tuo ambiente sarà caldo e confortevole. Puoi portarla con te ovunque. Guarda la differenza prima e dopo 10 minuti con la nostra stufa. Fast Power Heater è piccola e potente. Grazie al suo innovativo design e termoceramica, non ingombra e riscalda qualsiasi ambiente meglio delle stufe tradizionali così ingombranti. Sai bene quanto è fastidioso e malsano sentire i piedi ghiacciati quando sei costretto a stare fermo durante le faccende domestiche? O mentre studi? O mentre lavori? Per non parlare quando al mattino presto ti spogli per lavarti nel bagno gelido. La vera innovazione consiste proprio nella sua combinazione tra portabilità e prestazioni. E allora basta, bollette alle stelle. Basta trascinarsi per la stanza avvolti nelle coperte. Basta indossare un maglione sopra l'altro. Da oggi puoi stare comodo a casa, sulla poltrona, sulla sedia, a letto e fare tutto quello che desideri nel pieno tepore. Grazie a Fast Power Heater. Finalmente tu all'incredibile prezzo di 29 euro. E non è tutto. Potrai avere la tua seconda Fast Power Heater con uno sconto eccezionale. Così con due Fast Power Heater puoi riscaldare tutta la sala e la cucina, il bagno e la camera da letto. Grazie a Fast Power Heater.